Calcolatrici, formule e tavole periodiche sui banchi dei 71 liceali scelti tra 11 scuole del Molise che hanno partecipato alle finali regionali dei giochi della chimica nella sede dell'Unimol di Pesche. I vincitori accederanno alla gara nazionale dove verrà individuata la squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi di chimica in programma a Zurigo dal 16 al 25 luglio. L'obiettivo della competizione curata dal professor Vincenzo De Felice è quello di stimolare tra i giovani l'interesse per una disciplina considerata difficile. Chiaramente sta alla base di tutto la chimica, è una materia un po' particolare, forse perché è difficile presentare determinati concetti in modo semplice, perché c'è il rischio di semplificare troppo e di non trasmettere quello che è il vero concetto della chimica. Fermo restando però che è alla base di tutto, come diceva lei, della vita, dell'essere umano, dell'essere vivente, ma di tutto il mondo che ci circonda, diciamo con tutti i problemi connessi anche al problema dell'inquinamento. Spesso la chimica viene vista come l'aspetto negativo della società, ma in realtà la chimica, cioè si usa chimico come aggettivo negativo. Sostanza chimica, quando si dice sostanza chimica, vuol dire qualcosa che fa male, che non è vero. Sostanza chimica, quando si dice sostanza chimica, vuol dire qualcosa che fa male, che non è vero.